Nell'estate del 92 stavo a Roma e allora mi sono detto vabbè da proiettare solo nel mio cinema per qualche giorno voglio fare un cortometraggio, un film breve sui miei giri in Vespa per Roma. Ho visto il materiale e mi sono detto ma quale cortometraggio di 20 minuti? Io voglio fare tutto un film con questa leggerezza che mi ricorda quando ragazzo facevo i miei filmini in Super 8. Grazie. Grazie. Grazie.